ben trovati a questa nuova puntata di talk sicilia infortuni sul lavoro sono davvero un'emergenza però c'è chi sta cercando di arginare appunto questa questa emergenza con tutta una serie di azioni legate soprattutto alla prevenzione non tanto è solo controlli diciamo appunto e ispezioni ma a monte cercando appunto di fare comprendere a chi si a chi lavora chi ha imprese che è fondamentale ed è importante appunto la prevenzione ne parliamo oggi con una con un con un dirigente che sicuramente sa quello che ha fatto in questi ultimi appunto quattro anni perché ha cambiato tante cose stiamo parlando di carlo biasco direttore regionale della inail sicilia perché in questi ultimi anni hanno pensato di puntare più sulla sulla prevenzione e non soltanto sulla repressione allora i numeri che avete distribuito qualche tempo fa qualche giorno fa dico parlano assolutamente chiaro nel senso che questo è comunque un fenomeno abbastanza diffuso quello degli incidenti sul lavoro gli infortuni sul lavoro ci sono quelli drammatici quelli appunto mortali che sono una una punta diciamo appunto di questa vicenda ma ce ne sono tantissimi che sono praticamente non dico meno gravi perché per gli operai appunto sono sempre momenti drammatici ma che danno sempre diciamo appunto la 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 il fatto che praticamente bisogna sempre intervenire a cercare di limitare appunto questi e questi infortuni e allora possiamo dire come stanno le cose al momento in questi ultimi facendo dei raffronti anche con periodi diciamo anche pre covid sì certamente diciamo gli ultimi dati che noi abbiamo sono soggetti ad assestamenti però normalmente quando diamo un dato a fine mese sono abbastanza definitivi ci parlano di circa 20.000 25.700 infortuni nei primi nove mesi appunto del 2022 è un dato che per essere significativo conviene raffrontarlo a quello del 2019 perché il 2019 l'ultimo anno senza pandemia sappiamo benissimo che stravolgimenti nei settori produttivi si sono avuti dal 2020 in poi nel 2019 gli infortuni allo stesso periodo erano 20.000 ovviamente l'aumento di 5.000 non deve spaventare perché come non c'era il covid prima del 2020 adesso parte di questi 25.000 infortuni sono dovuti a appunto a infortuni covid però è chiaro che anche se il numero fosse più basso di quello del 2019 non potremmo cantare vittoria perché comunque stiamo parlando di 20.000 casi 20.000 casi sono molti di più degli infortuni mortali di cui stava parlando lei e quindi è ovvio che dobbiamo preoccuparci sicuramente di evitare gli infortuni mortali ma con molta più forza di evitare gli altri 20.000 gli altri 20.000 che non possono essere un tributo necessario per i settori produttivi gli infortuni devono essere diminuiti intervenendo a tenaglia sia su quelle che sono le attività imprenditoriali cioè facendo capire agli imprenditori che la prevenzione è un investimento e non è un costo ma soprattutto per le nuove generazioni quelle che si formano a scuola e alle quali dobbiamo insegnare che la prevenzione deve essere uno stile di vita e non deve essere un adempimento quando una persona poi si pone sul mercato del lavoro mi pare che l'e9 su questo sta investendo delle somme notevoli diciamo per cercare appunto di fare formazione sì ultimamente è uscito un bando che a livello nazionale ha stanziato circa 14 milioni di euro di cui poco meno di un milione è destinato alla sicilia sicilia sesta regione come come importo che parla di formazione in questo caso appunto per formare i lavoratori quindi i rappresentanti lavoratori della sicurezza gli rlst quelli territoriale gli rspp quelli del servizio prevenzione e protezione e quelli sugli stabilimenti in modo tale che in qualche modo oltre a quelle che sono le formazioni previste obbligatoriamente dal testo unico della sicurezza si possa fare dei percorsi formativi per innalzare il livello complessivo di consapevolezza e di sicurezza da parte di quelli che sono i lavoratori che portano avanti il sistema paese. Questi infortuni soprattutto nell'ultimo periodo sono stati determinati anche da tutta una serie di azioni diciamo intraprese appunto dal governo nazionale penso appunto alla ristrutturazione di interi edifici di interi palazzi e questo diciamo questo ha creato sicuramente un numero esorbitante di aziende di imprese di che lavoravano nel settore controllare tutto non è molto semplice non è stato molto semplice. No infatti il controllo è per definizione impossibile quando parliamo di una noi in italia abbiamo circa 3 milioni 800 mila aziende assicurate sarebbe impossibile controllarle tutte in un periodo di tempo definito figuriamoci se stiamo parlando di aziende che aprono e chiudono cantieri nello spazio di poche settimane è impossibile andare a controllare ogni cantiere che in quel momento è in azione. Il sistema degli incentivi in edilizia ha avuto il pregio di innalzare sicuramente il PIL della nazione però ovviamente ha stressato questo settore che già prima della pandemia era comunque il settore più a rischio a livello lavorativo tant'è vero che il tasso di premio delle aziende che lavorano in edilizia è il più alto a livello nazionale questo anche prima dell'ultima riduzione delle tariffe che risale al 2019. È chiaro che lavorando in tanti e di botto diciamo si è avuto il problema di formare e non sempre è stato fatto adeguatamente lavoratori che potessero lavorare appunto in un settore molto a rischio quindi ci sono avuti molti infortuni per lavorazioni tipiche dell'edilizia quindi caduta dall'alto piuttosto che caduta di materiali dall'alto ci sono avuti problemi di stabilità dei monteggi perché molto spesso per fare velocemente i monteggi non venivano fissati con le necessarie misure precauzionali insomma è un settore che ha mancanza di mancanza di disposizione di produzione individuale sì diciamo che se ti casca una putrella dall'alto non c'è caschetto che tenga è proprio che uno deve deve capire come si deve muovere in un cantiere quando si dice di non passare sotto le scale perché porta male come dicevano le nonne e perché probabilmente già all'epoca cascava una latta di vernice adesso se casca qualche cosa da cantieri che sono sempre più complessi per quanto riguarda gli edifici che abbiamo nelle nostre città è ovvio che le misure di prevenzione non finiscono mai e noi siamo a fianco di questi di queste figure che appunto prevede il testo unico della sicurezza per cercare di aumentare il livello complessivo di consapevolezza e quindi di prevenzione nelle attività lavorative. Lei da quattro anni è qui in Sicilia cosa come è cambiata di Nail in questi quattro anni o qual è stato il suo apporto di come non volere diciamo? Beh allora facciamo un discorso a livello nazionale e poi parliamo magari della sicilia. A livello nazionale abbiamo conseguito diciamo specialmente nell'epoca della pandemia una notevole visibilità per quelle che sono le nostre attività del settore sanitario e soprattutto del settore di certificazioni dei dispositivi di protezione individuali. L'Inail assieme all'ISS è stato uno dei due enti appunto certificatori dei dispositivi di produzione individuale che nel 2020 istituto superiore di sanità. Esatto. Loro si occupavano delle mascherine chirurgiche e noi di altri dispositivi quindi delle FFP2 e delle FFP3 ci preoccupavamo di vedere che le documentazioni che queste ditte fabbricanti molto spesso all'estero fossero appunto veritiere non ci fossero truffe se vi ricordate in quegli anni. Un macello. E' successo che era veramente un diamante avere una mascherina FFP2 in quel momento e quindi diciamo che questo ci ha favorito, ci ha fatto come dire assurgere agli altari della cronaca per queste attività. Ci siamo occupati anche di coadiuvare i vari servizi di prevenzione per quanto riguarda le vaccinazioni. Medici dell'Inail a partire dal Lab della Fiera del Mediterraneo ma comunque in molte province della regione si sono affiancati a quelli del Servizio Sanitario Nazionale per somministrare vaccinazioni. Abbiamo fatto quello che ritenevamo il nostro compito nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale del quale praticamente facciamo parte da quando c'è stata la riforma del sistema sanitario nazionale per far sì che la nazione avesse il minore impatto possibile con la pandemia. In Sicilia abbiamo avuto la fortuna di poter contare sulla collaborazione di tante istituzioni a cominciare dal DASO e se parliamo di vaccinazioni ma comunque in ogni caso abbiamo avuto ottimi rapporti con la protezione civile proprio per le attività di certificazione. Abbiamo fatto un lavoro che è stato sostanzialmente a beneficio di quella che la popolazione che ci riguarda, insomma i lavoratori che noi dobbiamo prendere in carico e dobbiamo tenerli indenni prima che si facciano male perché curare un lavoratore infortunato non è la stessa cosa che prevenire che si faccia male per il punto della questione psicologica del danno che lui ha subito per la famiglia. Poi ovviamente più è grave il danno e più c'è un problema, più la ditta è piccola e più c'è un problema perché in una ditta grande un infortunio viene in qualche modo scaricato, assorbito, al lavoratore si possono cambiare mansioni. Se si fa male un artigiano l'azienda è seriamente compromessa se il danno è grave. Sì anche perché ci vuole formazione, ci vuole preparazione, certe figure non si improvvisano. Nell'era dei robot l'uomo ha sempre la sua funzione per fortuna. Poi c'è da dire appunto che in Italia il 95 per cento delle ditte hanno meno di 15 dipendenti e poco meno del 90 ce ne hanno meno di 5 quindi si fa male un artigiano l'azienda forse perde l'unica fonte di sostentamento e quando l'azienda perde il sostentamento è la famiglia e l'artigiano che non sa più come arrivare a fine mese. A livello di gestione proprio dell'ufficio in AIDL in Sicilia cosa è cambiato? Qual è stato il vostro approccio se avete modificato appunto un approccio? Noi abbiamo puntato soprattutto dopo l'inizio della pandemia quando gioco forza c'era un po' più tempo per potersi dedicare a investimenti in questo senso abbiamo puntato molto sulle attività di controllo di gestione. Normalmente quando arrivano periodi come questo di un certo modo di infortuni e con il personale non ci dimentichiamo l'INEL è un ente pubblico quindi ha subito il blocco del turnover come tutte le pubbliche amministrazioni italiane e ci siamo ritrovati all'inizio della pandemia che eravamo abbastanza in difetto rispetto a quella che dovrebbe essere la nostra dotazione organica. Però il fatto che non ci fossero tante persone che venivano ai nostri sportelli non per problemi di prevenzione, i nostri sportelli sono sempre stati aperti per le attività di prossimità all'utenza ma materialmente durante il lockdown non c'erano tante lavorazioni che si facevano quindi non c'erano tanti infortunati e quindi ci siamo potuti dedicare a mettere in campo strumenti di controllo di gestione che hanno consentito di capire quali potevano essere le sacche di arretrato, quali potevano essere le azioni gestionali più appropriate per poter essere ancora più performanti nei confronti dell'utenza. In Sicilia il settore quello ne abbiamo parlato poco fa è quello sicuramente dell'edilizia poi quali sono gli altri settori dove voi intervenite in maniera più costante. Diciamo che molti dei settori in cui noi interveniamo ce li dice l'ispettorato nazionale del lavoro che dà le direttive perché non è una notizia notissima però comunque gli ispettori di INAIL e di IMSS in questo momento sono di fatto coordinati funzionalmente dall'ispettorato nazionale del lavoro quindi diciamo che noi ci muoviamo secondo quelle che sono le direttive. Noi vediamo con una certa apprezzione quelli che sono gli incrementi degli infortuni oltre che nel settore dell'edilizia nel settore di trasporti e facchinaggio e stiamo molto attenti a quello che può succedere nel settore del delivery. È da pochi anni che noi assicuriamo i rider e ovviamente i rider dovendo lavorare praticamente esclusivamente per la strada e molto spesso senza i dpi adeguati possono avere degli infortuni anche gravi. Purtroppo noi in Italia dobbiamo sempre arrivarci successivamente io non riesco ancora a capire perché il casco in moto ormai diciamo che è stato metabolizzato con difficoltà si sta mettendo il casco in bicicletta il monopattino non è ancora considerato uno strumento pericoloso invece lo è. Esatto soltanto con la buona volontà una persona si munisce di casco perché finché non ci sarà l'obbligo probabilmente ci consideriamo invulnerabili e questo è sbagliato. Il cadere a quelle velocità sicuramente provoca sicuramente problemi non è una... Certamente soprattutto alla testa se uno sbatte con la testa non è che si può intervenire come se c'è una frattura. Certo certo e allora e per quanto riguarda gli altri interventi diciamo nei grandi cantieri no perché comunque dico in Sicilia ci sono delle realtà industriali diciamo abbastanza grandi nonostante diciamo le imprese sono sempre piccole e medie ma ci sono anche le realtà. Come vi siete mossi in questi anni? Beh noi collaboriamo da diciamo come INAIL dal 2010 abbiamo assorbito le funzioni in precedenza svolte dall'ISPESL quindi abbiamo al nostro interno adesso delle unità operative territoriali ce n'è una a Palermo una a Messina una a Catania che sono proprio costituite dai colleghi che prima erano in servizio presso l'ISPESL e sui grandi cantieri e sulle verifiche di serbatoi di gas di impianti di sollevamento noi siamo pronti a collaborare con chiunque ce ne faccia domanda e con chiunque richieda certificazioni per i grandi cantieri e per i grandi stabilimenti ne dico due Priolo e Gela noi collaboriamo con i Vigili del Fuoco per andare a fare le verifiche perché mi riferivo proprio a quelli perché là arrivano sempre queste notizie e quelle relazioni noi siamo lì noi siamo lì con loro perché appunto le funzioni che in precedenza svolgeva l'ISPESL sono in capo all'INAIL come polo fra l'autosticurezza già dal 2010. Quello che mi premeva in questa nostra chiacchierata era quello di fare comprendere a chi è che ha imprese che appunto la prevenzione è la cosa più più importante uno degli ultimi episodi che c'è stato qua a Palermo si è verificato all'interno di un forno dove praticamente c'erano due ditte specializzate c'erano detto che erano due ditte all'avanguardia che stavano facendo appunto questi 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 lavori purtroppo invece il 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 guaio no è successo lo stesso quindi spesse volte dico bisogna stare molto attenti quando si 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 svolgono certe certe lavorazioni certo il testo unico della sicurezza oltre al documento di valutazione dei rischi che deve diciamo deve predisporre e aggiornare periodicamente quando cambiano le condizioni qualsiasi datore di lavoro in caso di lavori prevede il duvri cioè il documento della valutazione di rischi da interferenza perché quando c'è una ditta che sta facendo dei lavori è chiaro che si incrociano le attività di due aziende quella diciamo in questo caso del biscottificio perché penso siamo ora nel biscottificio e è quella della ditta che sta facendo le manutenzioni se le misure di prevenzione non sono sufficientemente pensate e se non non si seguono scrupolosamente quelle attività è chiaro che si può purtroppo ci si può trovare di fronte a situazioni incresciose come quella a cui dobbiamo a cui abbiamo assistito ma in questi quattro anni la cosa più brutta alla quale ho dovuto diciamo assistere è stata l'esplosione della fabbrica di fuochi artificiali a barcellona lì è stata veramente una cosa tipo questa perché alla fine era era un flex che stava facendo un lavoro e ha creato l'esplosione che ha poi distrutto una fabbrica e varie famiglie e varie famiglie sì quindi dico bisogna sempre diciamo quando si lavora e si lavora su certi con utilizzando certi sistemi eccetera bisogna stare molto 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 attenti si si sente di lanciare visto che siamo quasi in chiusura è un appello agli imprenditori io mi sento di lanciare due appelli ecco un appello agli imprenditori e un appello ai genitori perché come dicevo prima è dalla scuola che parte l'idea secondo una cosa quando eravamo piccoli noi si chiamava educazione civica del fatto che per essere cittadini bisogna anche pensare a quello che noi facciamo nei confronti della nostra nazione ricordiamoci che il costo sociale degli infortuni è stato stimato in una cifra per capirci più alta della manovra che stiamo discutendo in parlamento in questi giorni annualmente sono più di 30 miliardi i costi sociali degli infortuni ed è una cosa che non si può sostenere come cittadini se ognuno di noi può fare il suo per evitare che il costo sia così alto quindi come geni io faccio un appello ai genitori affinché insegnino ai figli insieme alle scuole con le scuole cerchiamo di collaborare anche noi per fare dei corsi formativi che insegnino alle scuole ai figli insieme alle scuole i corretti comportamenti per minimizzare i rischi rischi si possono minimizzare non vogliamo cadere nella retorica di dire rischio zero incidenti zero infortuni zero diciamo che partiamo da una minimizzazione che ci farebbe stare molto tranquilli rispetto ai dati che abbiamo commentato pochi minuti fa e faccio un appello agli imprenditori ricordatevi che l'infortunio comunque è un problema per un'azienda perché quando anche noi riusciamo con i contributi dell'inail a riqualificare il lavoratore a reinserirlo nell'attività produttiva a far sì che l'azienda non risenta tanto di quelle che sono le conseguenze di infortunio c'è un lasso di tempo in cui la vita e l'azienda è squilibrata è come se uno di noi scivola prima che riprende l'equilibrio ha fatto quei 4-5 passi quei 4-5 passi per l'azienda sono soldi che si perdono quindi la prevenzione è un investimento non è un costo perché quei 4-5 passi così si evitano mi diceva un'ultima cosa che per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro anche molto gravi quelli in agricoltura con il famoso trattore che si ribalta state dando incentivi per noi annualmente come istituto stanziamo centinaia di milioni per gli incentivi in prevenzione è un asse sempre ormai da dieci anni dedicato al settore agricoltura uno sicuramente delle cose più rilevanti è l'investimento di un imprenditore per adeguare quelli che sono i propri macchinari quindi nuovi trattori che hanno dispositivi anti ribaltamento che hanno il roll bar sicuramente cercano di minimizzare gli effetti di uno che è uno degli infortuni classici che purtroppo noi dobbiamo registrare e che è o lo schiacciamento o addirittura il decesso per un trattore che si è ribaltato bene io ringrazio Carlo Biasco appunto direttore regionale dell'INAI di essere stato nostro ospite vi auguro una buona serata ciao ciao ciao